C'è stata una buonissima prestazione, siamo riusciti a trovare vantaggi, a gestirli, a trovare il consolidamento senza rischiare praticamente quasi nulla, per cui la prestazione è stata sicuramente di livello sia per qualità che come diceva per quantità perché abbiamo dimostrato anche una buona prestazione fisica visto anche l'altissima temperatura. Prendere un gol come andavamo presso dal 1-0 è chiaro perché ci aspettavamo Montevacchi che partiva a 200 all'ora me lo sarei aspettato e gliel'avevo anche detto tra l'altro ragazzi di far si trovare pronti perché squadra giovane, brillante e anche se era caldo probabilmente sarebbe partita forte, me lo aspettavo. Abbiamo visto un gol da Polli, il primo, veramente da Polli e come ho detto anche ai vostri colleghi della radio questa è una squadra che anche prima che ha di passi io e 14 o 15 volte mi sembra che va in svantaggio non è mai riuscito a trovare un risultato, che vuol dire che ha problemi ad andare a fare gol quando le squadre sono chiuse. Una prestazione brillante, avevamo fornito precedentemente alcune buone prestazioni è che quando si riesce a concludere in porta tutto si vede sotto un altro profilo però noi siamo contenti di questa prestazione ma dobbiamo immediatamente guardare oltre e non bearsi su ciò che abbiamo fatto di positivo perché il nostro campionato è da riportare nei binari che ci competono e ancora non lo abbiamo fatto.